Amici del software libero open source, benvenuti o bentornati in questa centotraesima puntata del podcast di Marcos Box. Sigla! Apriamo questa puntata parlando dell'arrivo in Italia della VPN di Mozilla. Mozilla ha infatti annunciato la disponibilità del suo servizio VPN anche per il territorio italiano. Non è un servizio creato ad hoc da parte di Mozilla, ma si tratta di un rebrand della VPN di Mugvad che utilizza il protocollo WireGuard e si basa su una rete di oltre 400 server ospitati in più di 30 paesi. È uno di quei servizi nati all'interno di Mozilla per cercare di monetizzare, di fare cassa ed è un servizio che offre anche dei prezzi in linea con la concorrenza, né più né meno. Si parte infatti dal piano base di 9,99€ al mese, nel caso in cui vogliate fare un abbonamento di tipo mensile. Abbiamo poi il piano semestrale che ha un costo di 6,99€ al mese per un totale anno di 83,66€ e la sottoscrizione annuale che ha un costo di 4,99€ al mese per un totale anno di 59,88€. Tutti quanti i piani di abbonamento di Wzilla e VPN includono la possibilità di connettere fino a 5 dispositivi ovviamente, come avevamo detto all'inizio, la possibilità di basarsi sulla rete VPN di Mugvad che consta di 400 server in più di 30 paesi, la crittografia a livello di dispositivo, nessuna limitazione sulla larghezza di banda, nessuna registrazione delle nostre attività in rete e ci mancherebbe una VPN e ovviamente anche la garanzia soddisfatti o rimborsati come utilizzano fare anche altri servizi VPN, una garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni. Il servizio è disponibile per Windows 10, Mac OS, Android, iOS e Linux. Per Linux si parla di requisito Ubuntu 18.04 e versioni successive. Restando in ambito Mozilla, parliamo adesso del progetto Mozilla Common Voice. Vi ricorderete di sicuro di questo progetto, vi ne ho parlato nelle scorse puntate del podcast di Marcosbox. Che cos'è? È un progetto di Mozilla per la raccolta di registrazioni vocali scaricabili liberamente di pubblico dominio, utilizzabili in diversi ambiti. Però principalmente l'ambito principale verso il quale è rivolto questo progetto è l'ambito del machine learning, per esempio per la creazione di assistenti vocali per il mondo dell'accessibilità e quant'altro. Bene, questo progetto sta riscuotendo un enorme successo in tutto il mondo ma anche in Italia perché in Italia siamo riusciti ad arrivare a oltre 300 ore di registrazioni validate per appunto per Common Voice, per l'amico italiana. Contribuire a questo progetto, vi ricordo, è semplicissimo e può essere fatto sia contribuendo attivamente, registrando le fasi che vi vengono di volta in volta proposte ma sia aiutando anche a convalidare le registrazioni effettuate da altri utenti indicando con un sì o con un no se sono state pronunciate correttamente. Anche io ho contribuito quindi potreste trovare ogni tanto qualche mia registrazione quindi se sentite persone con una voce falsidiosa e con mancanza di R sono io. Su Marcosbox trovate maggiori informazioni e trovate anche il link per poter partecipare al progetto Mozilla Common Voice per la lingua italiana. Quindi partecipate tutti quanti numerosi perché è una bella iniziativa. Passiamo adesso al segmento delle distribuzioni Linux con una notizia molto breve perché di fatto non c'è molto di cui parlarne ha dedicato anche pochissimi righi su Marcosbox a questa notizia però è interessante per tutti quanti voi ascoltatori che amate Debian. Si sta infatti avvicinando il rilascio di Debian 11. La comunità di Debian ha annunciato i full freeze ovvero l'ultimo step prima del rilascio effettivo. Dove ne avanti che cosa succede? Succedere che praticamente ogni pacchetto che verrà spostato dal ramo instabile, ramo testing necessita di una revisione manuale da parte del release team. Quindi ormai le cose sono fatte, ci saranno giusto qualche pacchettino che verrà spostato, qualche aggiustamento all'ultimo minuto e aspettatevi a breve il rilascio di Debian 11. Passiamo adesso alle notizie riguardanti le comunità che ruotano attorno al mondo del software libero, in particolare attorno al mondo Linux. Planetlinux.it, l'aggregatore delle news del mondo open source in Italia, è stato esteso adesso per aggregare in modo strutturato anche gli eventi organizzati dalle diverse community locali e troveremo tutti quanti gli eventi all'interno di un calendario unico. Attualmente ci sono circa 70 realtà in tutta Italia che hanno aderito, che hanno condiviso i propri calendari ed è naturalmente possibile fare richiesta per raggiungere anche la propria sorgente. Può essere fatta sia agendo direttamente nel repository con una pull request oppure mandando un'email all'inizio che trovate su Marcosbox. Per maggiori informazioni, per il comunicato allo stampo e quant'altro, vi rimando alle pagine del blog. Render o oramai lo conoscete tutti quanti. È quel famoso software libero, multiplattaforma di modellazione, ringing, animazione, montaggio video, composizione, rendering, texture di immagini sia tridimensionali che bidimensionali e chi più ne ha più a mettere perché Render praticamente riesce a fare praticamente tutto, ci fanno praticamente tutto con Render. Ed è un software che nel corso degli anni è diventato sempre più apprezzato sia in ambito direttantistico che in ambito professionale perché viene utilizzato anche per progetti importanti. E nel corso degli anni diversi big del mondo dell'informatica hanno deciso di contribuire al fondo di sviluppo della Render Foundation sia dal punto di vista economico che dal punto di vista di forza lavoro con programmatori. L'ultimo in ordine di tempo ad aggregarsi, ad entrare a far parte del fondo di sviluppo della Render Foundation come membro aziendale Gold è niente po' po' di meno che Adobe. I contributi dei membri aziendali supportano direttamente lo sviluppo di Render per progetti generalmente approvati su Render.org. Quindi sono progetti approvati da Render, quindi non ci sono manine strane che possono manipolare in maniera occulta lo sviluppo di Render, sono tutti progetti che vengono approvati e sono tutti progetti che contribuiscono a rendere Render un software sempre più comprito, sempre più potente, sempre più apprezzato da parte di utenti professionali e non. E' un grande passo avanti per quanto riguarda la Render Foundation e speriamo che riescano a migliorare ulteriormente questi contributi, riescano a migliorare ulteriormente questo splendido software. Per quest'ultima parte di questa puntata mi sono tenuto due notizie interessanti, una buona e l'altra cattiva. Iniziamo con la notizia cattiva che riguarda Telegram. Telegram lo conoscete tutti, è quella piattaforma di messaggistica istantanea che è salita alla ribalta nel corso degli ultimi anni come antagonista di Whatsapp e che si è riuscita a ritagliare anche un posto speciale nei parti degli utenti attenti a privacy, attenti alla sicurezza e in special modo degli utenti Linux. Io utilizzo largamente Telegram, giusto per dirvene una. Che cosa è successo? E' successo che dei ricercatori specializzati in sicurezza sono riusciti a trovare quattro vulnerabilità all'interno del protocollo di cifratura di Telegram. I ricercatori hanno eseguito una dettagliata analisi di sicurezza della criptografia offerta da Telegram e come risultato di questa analisi sono state riscontrate diverse debolezze nel protocollo criptografico utilizzato da Telegram. Alcune di queste vulnerabilità sono banali e facili da sfruttare e altre più avanzate di interesse teorico. Per la maggior parte degli utenti il rischio immediato è molto basso anche perché la maggior parte di queste vulnerabilità sono state già corrette però queste vulnerabilità evidenziano che Telegram non è stato all'altezza delle garanzie criptografiche di cui godono protocolli criptografici ampiamente più diffusi come TLS. Telegram per impostazione predefinita utilizza un suo protocollo criptografico chiamato MT Proto per proteggere le comunicazioni tra client e i suoi server in sostituzione del TLS, il protocollo standard del settore. Questa è l'unica protezione offerta per impostazione predefinita. La criptografia end-to-end basata sul protocollo MT Proto che proteggerebbe quindi le comunicazioni da eventuali intrusioni da parte dei dipendenti di Telegram o da chiunque si intrometta nei server di Telegram è però solo opzionale e non è disponibile per le chat di gruppo. Quindi sotto questo punto di vista hanno ragione alcuni detrattori di Telegram a criticare il livello di sicurezza. E dopo aver visto anche questi tipi di vulnerabilità qualche domandina uno se le inizia a fare specialmente perché c'è stata fatta poi un appunto da parte degli sviluppatori di Telegram che lascia un po' la mano in bocca. I ricercatori hanno rilevato le vulnerabilità lo scorso 16 aprile ed è stata concordata con gli sviluppatori di Telegram la diffusione, la divulgazione di queste vulnerabilità qualche giorno fa, lo scorso 16 luglio 2021. Quattro, dicevamo, sono le vulnerabilità. La prima vulnerabilità consentiva di ordinare i messaggi provenienti da un client al server. Per esempio, era possibile alterare la sequenza di arrivo dei messaggi e far pensare che uno avesse scritto tutta un'altra cosa. Questo attacco è molto banale da eseguire e Telegram comunque ha confermato che è stato risolto questo problema nelle ultime versioni di Telegram nella fattispecie della versione 7.8.1 per Android 7.8.3 per iOS e 2.8.8 per il client desktop di Telegram. L'altra vulnerabilità che è stata scoperta è una vulnerabilità il cui interesse è per lo più teorico. Praticamente, un utente malintenzionato può arrivare quale dei due messaggi speciali è stato criptografato da un client o da un server in determinate condizioni. Andate via a leggere nella fattispecie che cosa consiste questo tipo di vulnerabilità su Marcosbox trovate poi i link con gli approfondimenti all'interno del paper. Non mi sto qui a dilungare troppo perché è una cosa molto teorica e quindi difficile anche da poter spiegare soprattutto per me che non sono un addetto al settore quindi posso capire verso le mie righe ma non posso entrare negli dettagli non posso spiegarvelo bene. La terza vulnerabilità scoperta anche in questo caso è una vulnerabilità poco più di tipo teorico perché la possibilità di effettuare un simile attacco è praticamente impossibile nella pratica. E gli disoccupatori che cosa hanno scoperto? Studiando l'implementazione del client Telegram per Android, iOS e desktop quindi tutte e tre le versioni principali del client Telegram hanno scoperto che all'interno del client c'è un codice che in linea di principio consente di recuperare parte del testo in chiaro dai messaggi crittografati per sfruttare questo tipo di attacco un utente malintenzionato deve però inviare molti messaggi accuratamente elaborati però si parla di messaggi nell'ordine di milioni quindi questo attacco se eseguito con successo potrebbe essere devastante per la riservatezza dei messaggi di Telegram però di fatto è praticamente impossibile da attuare e fortunatamente direi. Anche in questo caso però non dovete starvi qui a preoccupare perché questo tipo di vulnerabilità è stata corretta con gli aggiornamenti che sono arrivati lo scorso giugno. L'ultima vulnerabilità scoperta dimostra come un attaccante può montare un attacco attacchiere in the middle sulla negoziazione della chiave iniziale tra il client e il server ciò consente a un utente malintenzionato di impersonare il server facendo quindi al client di essere lui il server consentendo così di violare la riservatezza e l'integrità della comunicazione fortunatamente questo attacco è anche abbastanza difficile da eseguire perché richiede l'invio di miliardi di messaggi che devono essere indirizzati ad un server di Telegram in pochi minuti. Tutta lì evidenzia che mentre agli utenti è richiesto di fidarsi dai server di Telegram la sicurezza di quei server e delle loro implementazioni non può essere data per scontata. Telegram ha confermato il comportamento e ha implementato alcune mitigazioni lato server. Questa vulnerabilità non è stata ancora corretta però appunto ha fatto modo di mitigare il problema il più possibile. Speriamo che riescano al più presto a risolverlo completamente. Ma la cosa brutta la cosa triste di questa vicenda riguarda la risposta che è stata data ai ricercatori da parte degli sviluppatori di Telegram. I ricercatori sono stati informati dagli sviluppatori di Telegram che non vengono effettuati rilasci di sicurezza o correzioni di bug tranne che per correzioni di crash immediati post rilascio. E questa è una cosa che ormai vi siete accorti penso tutti quanti ogni volta che viene rilasciata una nuova versione di Telegram poi soprattutto su Android nelle ore successive c'è sempre quella seconda terzo quarto rilascio che va ad aggiornare il tutto. Quindi fanno dei rilasci immediatamente post rilascio per correggere i crash immediati ma non fanno non effettuano correzioni di sicurezza o correzioni di bug nell'immediato rilascio di una nuova versione di Telegram. E questa è una cosa molto triste che lascia molto da pensare specie se pensiamo che Telegram deve la maggior parte del suo successo proprio a questa storia tecnica che è stata fatta attorno al software come un software più sicuro rispetto a quello della concorrenza. Quindi ormai lo vedete tutti quanti Telegram si è sdoganato non è più il software di noi svanettoni ma è il software che è sempre più gente sempre più utenti stanno iniziando a utilizzare. Io lo vedo nel mio piccolo mi arrivano sempre più spesso notifiche di miei contatti che hanno deciso di installare Telegram e che hanno deciso di utilizzarlo. Questi sono persone che non sono svanettoni sono tutt'altro e quindi ci trovano qualcosa di nuovo in Telegram ci trovano qualcosa di bello in Telegram perché ricordiamo Telegram ha tante di quelle funzionalità interessanti come ad esempio la possibilità di essere utilizzato su più dispositivi contemporaneamente quindi è stupendo se voi potete dimenticare lo smartphone a casa e andare a lavoro e comunque poter restare in contatto con Telegram grazie al client desktop che avete installato su portatile o quant'altro ha tante funzionalità interessanti come per esempio le famose chat di gruppo come le chat vocali di gruppo le chat video di gruppo funzionalità interessanti come i canali Telegram che utilizzo anche per Marcosbox e quant'altro è un bellissimo software speriamo che i ricercatori prendano la sicurezza in maniera ancora più seria rispetto a quello che hanno fatto fino adesso dopo la brutta notizia di Telegram passiamo adesso all'ultima notizia di questa puntata del podcast di Marcosbox una notizia molto bella sia per i videogiocatori che per gli utenti Linux perché Valve ha presentato un nuovo dispositivo chiamato Steam Deck una console portatile con Linux alla stregua della Nintendo Switch giusto per farvi capire il form factor di questo dispositivo è una console PC portatile equipaggiata con Steam OS in grado di far girare a dettaglio gli ultimi giochi gli ultimi titoli AAA disponibili sul catalogo di Steam Valve definisce la sua Steam Deck come il dispositivo portatile per gaming più potente e pieno di funzionalità al mondo per la realizzazione di questo dispositivo Valve ha collaborato con AMD che ha creato un'Apu che alimenta la Steam Deck che è ottimizzata per il gaming su dispositivi mobile è un processore Zen 2 RD e NA2 in grado di fornire tutta la potenza necessaria appunto come vi ho detto prima per poter giocare gli ultimi titoli AAA però con estrema efficienza dal punto di vista energetico ma perché questa notizia è bella per noi utenti Linux beh perché come ben saprete Valve sviluppa un sistema operativo chiamato SteamOS è basato su Linux le prime versioni di questo sistema operativo erano basate su Debian l'ultima versione questa che equipagerà la Steam Deck è basata niente proprio di meno che su Arch Linux e utilizza KD e Plasma come desktop environment questa nuova versione di SteamOS è stata creata specificatamente per la Steam Deck ed è stata ottimizzata per fornire un'esperienza di gioco portatile a 360 gradi e ottimizzata nel migliore dei modi ha la sua base via Proton un layer di compatibilità che permette di eseguire i nostri giochi senza alcun lavoro di porting da parte degli sviluppatori su Marcosbox trovate la scheda tecnica completa della Steam Deck e che dire è bellissima è il sogno di tutti quanti i videogiocatori all'ascolto io ne parlavo giusto con alcune persone tra i quali mio nipote che quando ha visto questa console si è detto entusiasta e già si è prenotata ha detto zio mi dì che devi fare e mi sa mi sa che se riuscirò ne dovevo prendere due una per me e una per lui al pari di altri console portatili la Steam Deck consente anche un utilizzo classico così come la Nintendo Switch perché? perché mediante l'ausilio di un dock che viene venduto separatamente è in grado di trasformarsi in un console di salotto ma è in grado anche di essere sfruttato con il suo sistema operativo per la navigazione su internet per il lavoro e quant'altro oltre ad essere compatibile con il dock ufficiale è anche compatibile con dock di terze parti quindi se avete una dock con USB tipo C quindi con le varie uscite quelle che utilizzate normalmente sugli ultrabook e quant'altro potete utilizzare potete collegarla alla vostra Steam Deck e collegarci un mouse una tastiera uscita video per il monitor o un controller chi più ne ha più ne metta e potete utilizzare la Steam Deck come computer fisso per poterci giocare al computer su un monitor più grande o ma anche per poterci lavorare perché ricorda la base c'è Arch Linux con KDE e Plasma e quindi potete di fatto utilizzarlo anche per navigare per lavorare e quant'altro maggiori informazioni sulla Steam Deck sui prezzi sulla disponibilità e il contatto li trovate in un articolo dedicato su Marcosbox e con quest'ultima notizia si conclude qui questa centotraesima puntata del podcast di Marcosbox spero di non avervi annoiato troppo con la lunghezza di questo episodio che mi rendo conto è venuto bello ciccioso per via dell'ospensione su Telegram e che dire lunga vita e prosperità a tutti quanti ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcosbox ciao